che palla è sto sabato qua c'è allerta gialla domani 8 dicembre domani 8 settembre dico dicembre perché qua c'è un tempo proprio inverno sembra domani allerta arangiona addirittura che l'unica avesse allerta rossa guarda un weekend senza la nostra juventus un weekend senza il calcio italiano che è sempre criticato 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 ma alla fine senza calcio non possiamo vivere non solo non possiamo vivere ma poi giustamente ci dobbiamo inventare noi youtuber calcistici dei video no e oggi mi è venuto di fare questo video intenditori di youtuber e non buon pomeriggio da un pare parello allora in questi anni chi mi conosce ho fatto i tanti viti ovvio quanto video ho fatto 10 mila video facciamo così quasi 8 mila video visto che siamo arrivati 8 mila iscritti ma di là di viso e scritta di là di tutto no è stato bello in passato no perché eravamo pochi e con così dice con tutti ovviamente tutti i juventini interisti milanisti fiorenti eravamo pochi eravamo era più bello no anche quando si facevano i dissing no dissing veri sinceri quando ci mandavano a fare in culo adesso invece tu sai tutta una massa di copioni stracopioni copio sempre sta parola dis un po non manca italiano e chi si parla di dissing ma tu manca usare manca usare ripeto non sai l'italiano quindi figuriamoci l'inglese i dissing tutte cose inventate nostre ma detto questo detto ad oggi ad oggi ad oggi vi dico che forse certo qualche dissing me lo potevo risparmiare ma ad oggi forse mi pento di tante cose ma ben me ripeto il dissing era diciamo come un duello calcistico che poi purtroppo se andava prima si parlava di calcio poi giustamente si andava oltre non so uno si è dedicato cose e alcuni ho dedicato alcuni ho fatto pace e per esempio uno che me ne sono vendito per esempio uno mi dispiace alla fine uno è fabio beco uno lo dico lo dicono perché lui e io ne avevamo parlato all'epoca avevamo fatto una cosa anzi da lui decreata però alla fine io dicevo sembra però era a milano visto che ci sono mai così lui voleva portare tutti youtuber in una tv di avere di avere spazio a youtube con i piccoli a quelli media quelli giganteschi siamo diviso iscritti di parlare di calcio perché io ad oggi ad oggi soprattutto tutti questi giornalisti da ripeto dalla televisione sono scesi da noi perché fosse così ci mancavano i soldi ci mancavano i soldi ragazzi perché questo perché noi siamo partiti a livello proprio come passione poi qua per qualcuno è diventato lavoro va bene ma alla fine sta cosa l'abbiamo creata noi capito io intanto come per esempio io ho fatto i viti su questo argomento poi l'ha detto per seminati per vincere discorso del genere la penso quale donato inglese è anche stufatto la io mi sembra un altro litigato con lui un ragazzo pacciani dove sei pacciani perché abbiamo litigato mi è venuto sta cosa perché giustamente chi ti aveva l'oltrevo l'occhio un po' con la cossina aveva faccia dei pacciani mi è andato proprio così capito poi mi è passato addirittura ho saputo quello che vessicchio là pure vessicchio ha cominciato le mostre differenze sono tutti pacciani sono tutti interisti capito mica pare che mi hai copiato vessicchio queste sono cose che ho detto ridetto fatte capire pacciani dove sei ma ti rendi conto ora mi metto pure a ridere però quello perché poi quando c'è stato quello famoso dissi con donato inglese era il vecchio canale che mi ha nagherato attenzione quindi non mai e nemmeno quello che mi ha visto è che capace gli è venuta pure in mente questo fatto di pacciani mostro differenze comunque pacciani dove sei ah ascolta a me e donato andiamo in tv e tu guardi io tu una devi vincere di colicone fabio belgro perché chissana questi aveva meritato di andare in tv guarda queste persone guarda lo dico spurgatamente guarda anche il tuo selli con poco questi qua questi gente stavente che insomma che tanti anni ma che ci sono freddo capito e questo ci volevo per esempio tutte queste persone ma più anche quelli piccani con le nuove arrivate che sto io dico l'allino juventus mio amico non è bianconero gianni bianco questi youtube che diciamo sono arrivati diciamo da 3 4 5 a questa parte però io dicevo come adesso è come si dice come è una tv come si dice spazzatura è una tv spazzatura non c'è niente adesso quel canale che c'è niente queste persone da tanti anni secondo me meritano uno di avere anche quando fanno i video di avere anche chissà venga un allenatore un calciatore cioè chissà meno queste persone lasciare me parliamo di questo c'è un meno di queste persone come vi hanno fatto ridere vi hanno fatto un balletto vi hanno parlato di calcio vi hanno che cosa vi hanno fatto intrattenimento eppure non è che sono stati ripagati una certa cosa attenzione quindi queste persone qualcuno soprattutto i clienteristi io ho litigato litigato o mai meno male invece al di là di qualche qualche battuta screzzo ma qua si parla di caccia alla fine e se si offende di nuovo si parla di sempre cacisticamente parlata che alla fine io manco qualcuno lo conosco qualcuno lo conosco però il discorso era questo mi è dispiaciuto mi pendo di fare ad oggi posso dire che mi pendo di fare dissing di aver litigato e di aver fatto dissing che alla fine se doveva finire così perché adesso sono un sessi giornalisti capito una vergogna veramente vergognosi e allora mi dico ripeto e ce l'ho e con fabio beco che poi non c'è stato più modo che poi ho assolutamente sai il suo cv sport magari ci vado di nuovo magari può capitare di nuovo che faccio un video con lui attenzione perché noi lui soprattutto aveva inventato che tutti youtube dovevano vedere in televisione e di creare una cosa di youtube ci stava riuscendo poi la cosa è andata a puttana poi vabbè è proprio politicato cose ma alla fine uno non è davvero anche può fare anche pagina non è che il problema io ho lavorato a 10 anni ora conosendo mica 10 anni no però tutt'oggi tutt'oggi com'è qual è il mio il mio succo di questo video date spazio capito date spazio agli youtube in tv capito se stai ogni volta va in tv c'è sempre la sabatini c'è sempre la che cazzo ne so tutti che c'è sempre la che c'è sempre la che c'è sempre la spazio date spazio pescidiele che c'è crescidiele date spazio agli youtube di tutte le squadre in tv capito che è il più piccolo quello è più grande di parlare capito io sono convinto se tu fatti c'è italia 1 canale 5 poi metto un canale metti canale che so canale youtuber canale youtube inventate il canale youtube channel per esempio no che almeno là ci siamo tutti youtube che parliamo di calcio e che vengono i calciatori che vengono allenatori c'è loro si dovevano rapportare con noi perché quando no ognuno di noi chi dice che i carri della scassa avuto ragione chi dice che lucazzo della scassa avuto ragione chi dice agnele che l'ammarata le convenza ragione quindi tutto c'è ognuno di noi abbiamo detto cose che nei giornalisti né quelle dei media nelle testate giornali gazzetta corriere tutto nessuno ha mai detto niente ragazze cioè io questo voglio far capire quindi ripeto ormai è andata così poi un canale mio si è cresciuto non è cresciuto perché ti sei mosto male sbagliato ormai è andata così alla fine e manco ripeto perché se volesse faccia così come gli altri miei colleghi compri iscritti un canale cresce capito ma capace un giorno un giorno farò ancora più professionale questo youtube questo volevo dire ragazzi nel senso che ripetono le cose che abbiamo detto allora ripeto e volevo dire questi giornalisti sono venuti nel nostro mondo e hanno copiato i dissing hanno copiato le cose che ho detto io cioè non lo so veramente io sono stupefatto cioè non avete inventiva voi cioè non vi vergognate voi giornalisti del nostro mondo a venire io già avevo fatto un video questa parte questo è un mix già questi giornalisti che sono venuti nel nostro mondo a rompere il cazzo va bene a rompere il belino come dicono qua alla spezia in più tutti sti youtube diciamo quelli grandi i medi che ci hanno dottato anche le visual capito io ripeto io spero che tanti anche gli utenti che non andate più a cliccare tutti questi giornalisti a me mi dà fastidio anche quando youtube dice ma quell'amico mio quell'amico mio ora ho fatto che ci fu toselli con codici fiscali con tecla io sogno contento almeno c'è finalmente un youtube che ha lavorato tanti anni o al di là che a me non mi piace come youtube ma alla fine li vedo non è che non mi piace perché parla sempre però è una brava persona io sto parlando come youtube come è una brava persona è una brava persona anche l'area di 10 invidioso ma qual è il video io sogno contento però non è che sono lui di avere tech ho fatto che tanti youtube piccoli grandi mete è giusto che anche loro devono avere allenatori giornalisti e soprattutto tutti questi youtube della dobbiamo avere uno spazio in tv perché loro sono scesi il nostro mondo e noi a questo punto siccome siamo incazzati almeno io sono incazzato allora noi li scala allora mandano youtube e noi andiamo in tv può fare fare una trasmissione tv per tutti gli youtube ripeto basta che tu si youtube anche con uno iscritto io sono youtube perché ti metti nei social perché vuoi dire la tua sul mondo del caccio a diretti di guendini delista milanista non vedano però è giusto che deve andare tu in tv allora a questo punto visto che loro vogliono rimanere qua voglio rimanere qua a guadagnarci perché loro erano povere poveracci capito perché questi youtube ripeto è il nostro mondo è il nostro mondo capito a me mi dà fastidio quando il giornalista attaccano su youtube capito vero mi dà fastidio ve lo dico subito io ho detto davvero quando attacca scherzo ah mi si è attaccato quel bel bel ha detto per tu la ha detto ma su mi parla fino in effetti devo parlare poco poi ripeto tutti i giornalisti non sono tutti stupi sicuramente però pure tutti ignoni di caccio però buona parte loro si quindi io ripeto c'è troppa tv spazzatura spero che un giorno alla sto punto noi dobbiamo avere un canale tv proprio youtube un iscritto due iscritti 100 iscritti mille iscritti 100 mila iscritti ogni ogni youtube deve avere a sto punto noi visto che loro vogliono andare sotto allora è giusto che noi andiamo sopra noi dobbiamo avere una tv locale ma no tv tipo la italia 7 no no avesse come italia 1 c'è pressing giusto allora ci deve essere il nostro pressing youtube tutti gli youtube capito annettando vengono giornalistico perché c'è un essere loro fammi capire c'è un sabato che non capisce un cazzo di caccio perché ogni volta avendo vistare che cazzo ne so perché lui devi stato tipo a maratona per esempio deve dire deve vedere del piede ma per chi lo sia o no fammi capire io questo non capisco e poi non capisce un cazzo ma chi è uno che dice che l'atalante vince il campionato chi lo capisce di caccio secondo te quindi basta questi giornalisti allora a sto punto aveva ragione fabio bergomi capito proprio per aver ragione perché noi già essere noi youtube dove andare noi noi in tv e spero che un giorno si farà questa cosa che tutti gli youtuber tutti proprio del mondo calcistico abbiano uno spazio tv capito io l'unico che ho visto è il maestrangelo che la chi signora l'italia 7 la parlava commogico capito è l'unico però lui che ha voluto fare si dice l'unico che ha sfondato si è l'uno è fatto in è vero però anche lui si voleva infilare tipo come giornale capito come ci voleva copiare invece no noi io dico un'altra cosa io voglio invece che tutti youtuber invece di essere tutti giornalisti no di tutti youtube siamo una cerchia ma la cieca di essere grande youtube universali che hanno uno spazio tv e perché poi vengono cacciatori vengono 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 tutti quanti cacciatori vengono la cosa si chiama la allenatori capito giornalisti come a noi in un giorno mai hai visto qualche a parte maestrangi ha visto qualche youtube inventata pressing l'unico che ne vittunano effetti fu il suo la re uno la eeeh upelato la cosa si chiama la eeeh mastocchi la mastico mastocchi la che invitava bergomi da giuventino giuventino al re 2 ecco ma quando fu una volta ogni morte che papa ma ti fico a fissi questa cosa non l'hanno fatto più perché sai cosa questi giornalisti questo che dicono ma youtube un caso ragazzi non capiscono un cazzo invece però i giocatori sai che direi giovanisti voi pure non capite un cazzo come noi youtube diciamo che non capite un cazzo capito ormai l'informazionismo quindi il video è con il mio video il video di Toselli fu buono alla fine perché nel senso che lui ha scritto in una community deve cambiare il modo di ragionare il modo di dare l'informazione ormai bisogna andare avanti e quindi è giusto che gli youtuber devono avere uno spazio in televisione va bene quindi così bellosconi silvio bellosconi dove sei visualizzati sono stato un grande tuo padre è stato un grande capito contatta qualche youtube contatta a me guarda che io faccio faccio un manager dobbiamo avere uno spazio in tv facci fare un youtuber pressing ascolta ascolta a me silvio bellosconi ti taggo pure tutti youtube calcisti che devono avere uno spazio tv in televisione va bene quindi ci avete canale 5 italia 1 e dovete inventare una rasmissione tipo youtube canale youtube e calcio ecco canale youtube e calcio guarda ascolta a me visto che tu sei un visionario come tuo padre anche io sono visionario ascolta a me va bene comunque vi saluto e vi auguro un buon sabato qua pieno di allerte a medio gialla domani arangione e poi tra poco sarà rossa ciao